Eccoci e bentornati sul mio canale, oggi ragazzi siamo in compagnia di Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Il titolo è sviluppato dall'Armature Studio ed è pubblicato dalla Warner Bros Il gioco è una riedizione del capitolo uscito su piattaforme portatili Quindi questa nuova edizione ovviamente in alta definizione la troveremo dal primo aprile quindi già da qualche giorno su 360, PS3, PC e se non ricordo male anche su Wii U Il gioco è ambientato tre mesi dopo Batman Arkham Origins e ovviamente con Batman dovremo come sempre far ambassa di nemici E portare ovviamente la pace all'interno della prigione del Blackgate Siamo in compagnia della versione dimostrativa della demo che ho trovato sullo store Ho detto perché non provarla e giocarla un po' insieme a voi Anche perché abbiamo giocato Batman Arkham Origins poco tempo fa Quindi ho detto perché non provare anche questa nuova versione quindi questa demo Come sempre vi ricordo come ogni volta che proviamo una demo che non è la qualità definitiva del gioco Quindi è ovviamente una versione dimostrativa Il gioco vi ripeto è disponibile dal primo aprile Andiamo subito in nuova partita Normale e vediamo insieme questa demo Veramente molto curioso di sapere più che altro il funzionamento, il gameplay Perché non mi sono informato per niente e non ho voluto vedere i video Perché dico come sempre non voglio rovinarmi la sorpresa Anche se è una demo però non voglio mai Ahia, chi è? Catwoman Abbella con pantalone in pelle Like taking candy from a baby The baby being a secret government organization I don't know who you're supposed to be But in case you didn't notice This building's business hours are over Oh, I noticed And my business never sleeps I'm nocturnal Tell me you're not this place's overdressed security guard I just go where the crime is You sure you want to cut this so short? You haven't even heard me purr yet You won't be purring once you're in Blackgate Target acquired Target has the package DEO security squad Omega in response I'm handling this You're on private property Interfering with private business We were just leaving She's good Munitions chain Secure the package The rest of you Batman is not to leave this rooftop Mamma mia Graficamente è bello sto Batman Guardate che ignorante Attenzione Attacco con quadrato Ah, bello È tipo a scorrimento Uh Doppio per me Peccato che Catwoman sia Sia scappata Oh, attento Che fai? Ma mi colpisci così Un, due, tre Oh, attenzione Che attacco In volo Bello Carino come giochino, eh Mi sta guinciando a piacere Più che altro Oh, oh, oh Attento A bello di casa Bomm Perfetto Il rallenti quando facciamo l'uccisione C'è come sempre Obiettivo aggiornato R1 Ok Tieni premuto X Tieni premuto Corri e plana Ok Perfetto Bello Oh, oh Amico mio Non te ne andare di sotto Amico Wayne Su Ok Si sale Arrivo Arrivo Donna Gatti Voglio fare le fusa con te Arrivo Non te ne andare E adesso Uh, fino lì giù Vai Col nostro Bat Rampino Facciamo di tutto Eccoci qua Qui che c'è Apri Nelle Già nelle condutture Ci buttiamo Uh, dove vai Batman Qua Vai Tieni premuto Ripetutamente Ok Nuovamente R2 Più X Per entrare Che cavolo Sta donna gatto Già comincia A da Fastidio Dai 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 Ok Fuori Dove è andata a finire? Dove sei? Oh Ma dove cavolo Se ne vanno i topi Costaria Si sale Si sale Si continua a salire Oh Ah bella Ma che fa Ma ti abbiamo pure aiutato Con la pulizia Ma si fa così Cacchio C'è la miseria C'è la miseria Su Andiamo Si continua a salire Andiamo Andiamo Siamo attenti A sta pazza Ok Tieni Premuto Per accovacciarti Ok Ancora più sopra Ambientazioni Sono belle curate Tieni premuto L1 Per usare L'analizzatore Premier Per muovere Il mirino Analisi in corso Il meccanismo Che tiene ferma La scala Allentato Tieni premuto Mostre e bersali Del batarang Ok Andiamo Boom Si sale Continuiamo a salire Arrivo Bella di casa Adesso arrivo Che quei pantaloni In pelle Oh Dov'hai Bella Cacchio Si è buttata Di sotto E noi No Pure tu Batman Dov'hai andata Unica cosa Che possiamo andare Solamente avanti Tipo non ci possiamo Spostare Sto vedendo Se possiamo Muoverci liberamente Su tutta la superficie Del Dei tetti Dobbiamo andare Solamente avanti E solamente A scorrimento Ok Sali sopra E adesso Ti voglio Oh fino lassù Mamma mia Bella Adesso arrivo Il Batman Fricchettone Non vi voglio Più sentire Oh Mamma mia Che botta Oh Grandissimo Batman Guarda quanti Sono Dai Dai Oh Oh Ma bello Fermo Tiè Beccate questo Ah Eeeh Non si attacca male Spano Guarda quanti so Guarda quanti so La mia sta facendo Una combo da nove Cacchio Quello me l'ha interrotta Cacchio Su Su Eeeh Sto attaccando L'amico tuo Bello Quello è in volo In planata Grandissimo Bello Ok Fermo Fermo a papà Un due tre Un due tre Mamma mia Ma sta veramente Oh ma che è Queste rianimano Su Una bella combo Dai no Stava una combo da otto Prima siamo riusciti da nove Se quello là Non mi rompeva l'anima Guardate Catwoman Che non ci aiuta minimamente Dopo come L'abbiamo liberata Prima che era Puntata dai mirini laser Della polizia Oh Mamma mia Quello che gli ha fatto Che gli ha fatto a quello Abbiamo metà delle energie Però No Eeeh No Oh Proprio in mezzo Ai gioielli di famiglia Mi sembra Oh E che cacchio E dai Ok L'ultimo Rallenti per me A posto I pipistrelli Che consacrano La nostra vittoria Ah bella Adesso arrivo Adesso arrivo Bella di casa Ok Qua No Promette niente di bonus Travi Ok Non so perché Ma Mi dava l'impressione Che stessero per cadere Non lo so perché Eccola Destra o sinistra Per avanzare con le armi Con le mani Scusate Su Su Ok Pensavo dovessi salire con X Dove cacchio Eccoli Cari Piccioni Sta passando Scusate 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 Adesso invaso la vostra casetta Ok Ellola Oh Anche noi Facciamo un po' di parapendio Arrivo Piano piano Guarda come va lei Guarda come va lei Mamma mia Velocissima la ragazza Più che altro Tiè E' veramente agile La La ragazzina Dai Batman La dobbiamo riprendere Perché Voglio fare tante fusa Con Catwoman Quindi cerchiamo di riprenderlo Vieni qua va A posto Modalità detective Eh L1 per attivare la modalità detective Dotato di fucile d'assalto Quest'altro Da cui spezionare un'area Ok Facciamo il giro l'arco Su Sali Perfetto Cacchio Cambio a bersaglio Calcio in planata Caduta Ok No No Su Vai Vai Il classico nostro giochino Che saltiamo da una parte ad un'altra Su Che non ci vedono Ok Sopra Sopra Batman Siamo per morire No Siamo morti Eh Questi c'hanno belle armette Questi c'hanno belle armette Va bene da ragazzi Siamo morti Va bene così Vi volevo far vedere questa demo insieme E niente Il gioco come vi dicevo E' disponibile dal primo aprile E' ovviamente una rivisitazione Del gioco uscito per piattaforme portatili Diverso tempo fa Ovviamente in HD Il gioco è disponibile dal primo aprile L'abbiamo provato Quindi questa demo L'abbiamo provata su Playstation 3 Fatemi sapere chi di voi l'ha preso Chi ci sta giocando E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale E ci vediamo con tanti nuovi video E ci vediamo con tanti nuovi video E ci vediamo con tanti nuovi video